A Castel San Giovanni l'area alle spalle di Villa Braghieri è stata intitolata Fausto Vigevani. La città adottiva del sindacalista della CGL, nonché senatore della Repubblica, scomparso a Roma nel 2003, non ha dimenticato la statura morale e il contributo che questo suo figlio adottivo seppe apportare nella difesa dei diritti dei lavoratori. Originario di Coli, Vigevani si era trasferito ventenne a vivere a Castello. Dopo le prime esperienze nella Camera del Lavoro Piacentina, ecco l'incarico di segretario generale della Camera del Lavoro di Novara, poi segretario generale della Federazione dei Chimici, membro della segreteria generale della CGL. Dal 1991 al 1994 Vigevani divenne segretario generale della FIOM, prima di essere eletto senatore della Repubblica. Sottosegretario alle finanze nel primo governo di Romano Prodi fu riconfermato in quello guidato da Massimo D'Alema. Fece scalpore la sua rinuncia al vitalizio in anni in cui questo tema non era ancora di moda. È stato un grande sindacalista, diceva sempre la verità ai lavoratori, anche quando era scomodo. Aveva questa autonomia, questa rettitudine di pensiero. Lui non avrebbe avuto Twitter perché non sarebbe stato a un pensiero così breve, ma progettava sempre, studiava moltissimo, aveva grande competenza e consegnava delle novità sempre rispetto alla CGL, aveva un modo di essere a volte anche riservato, ma quando parlava capivi che era veramente uno che poteva darti la capacità di cambiare la storia.